L'Italia, anche l'Italia contemporanea, deve essere grata al maestro Manzi, l'inventore e il conduttore della trasmissione non è mai troppo tardi. Grazie alla RAI si avvia una grande opera di alfabetizzazione di massa in un'Italia che stava conoscendo i primi effetti del boom economico, ma era ancora un'Italia contadina, un'Italia arretrata, dove il livello di conoscenza della lingua italiana era primordiale, anzi il numero degli analfabeti, di coloro i quali non sapevano né leggere né scrivere, era ancora altissimo, persino più alto del periodo bellico, perché la guerra, la seconda guerra mondiale, aveva rappresentato un elemento di cesura nella istruzione di massa. Dunque gli italiani davanti alla televisione provano a scoprire un mondo, un mondo inedito, quello della loro lingua. Io stesso ero bimbetto in quegli anni, 60, non frequentavo ancora la prima elementare e ho trascorso ore e ore davanti alla tv ad ascoltare il maestro e a cementarmi con A, E, I, O, U e immagino che insieme a me tanti, tantissimi italiani, anzi molto più grandi di età della mia, provassero il piacere della scoperta della lingua. L'Italia era un'Italia appunto contadina, rurale. Sentiamo che cosa dice il presidente del Consiglio, e poi diventerà presidente della Repubblica, Antonio Segni, in un articolo scritto per il primo numero dell'Espresso nel 1955. fa un saluto agli insegnanti e agli studenti quando la scuola iniziava in tutta Italia, da Bolzano a Messina, il primo ottobre. Scrive dunque, segni, che occorre una scuola fortemente decentrata, dispersa direi nella campagna, a contatto col contadino che non può essere costretto a lunghi percorsi per trovare la scuola. Inoltre, le braccia sono una ricchezza in campagna, presto utilizzata, perché vi sono sempre bocche da sfamare. Ecco, questa è la fotografia di questa Italia. Bocche da sfamare, braccia da utilizzare in agricoltura, difficoltà per raggiungere le scuole. Non è mai troppo tardi. La scuola entra nelle case degli italiani, almeno nelle case di coloro i quali avevano il privilegio di possedere un apparecchio televisivo. Così si chiamava allora la TV.